E' terminata l'amichevole con il Kaiserslautern, 2-1 vittoria dei tedeschi. Qual è il commento e il giudizio dell'allenatore del Lugano Paolo Tramezzani? E' stato innanzitutto un buon test contro una squadra che conoscevamo per averla analizzata e studiata, vennerà vista anche questi giorni qui, il modo in cui si allenava. E quindi considerando l'importanza che aveva la prima partita di 90 minuti, ritengo che soprattutto nel primo tempo la squadra abbia interpretato bene la gara, si sia mossa molto bene, riducendo gli spazi agli avversari, cercando di costruire anche qualcosa di importante, andando a modificare anche l'inizio del gioco da parte nostra che ha coinvolto spesso tutti i giocatori. Nella ripresa, dopo una buona partenza, credo che anche a livello fisico sia venuta a mancare la brillantezza che ci ha concesso nei primi 45 minuti di andare a attaccare gli avversari nella loro metà campo. Dove può e deve migliorare questa squadra? Possiamo e dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista. Il lavoro è molto duro e impegnativo, ma deve darci la convinzione anche che poi in campo dobbiamo portare quello che facciamo durante le sedute. Di allenamento. Ed è chiaro che alcune gare vanno gestite magari in modo diverso, saperle interpretare significa capire anche il momento dell'avversario, saperla sfruttare alcuni lati deboli, alcuni aspetti. Oggi l'abbiamo fatto secondo me abbastanza bene, in buona parte della gara e dobbiamo solamente recepire che quando siamo in difficoltà, quando non abbiamo brillantezza o fisicità nei confronti dell'avversario, dovremmo trovare un modo diverso sia di difendere che di attaccare. Ho sentito che sull'1-1 in città dei ragazzi andiamo a vincere, vuol dire che c'è una predisposizione attitudine offensiva. La prima indicazione che do sempre loro è cercare di essere comunque padroni del gioco, non vuol dire tenere la palla, fare possesso palla, non è inteso come calcio spettacolo, vuol dire essere padroni del gioco attraverso la posizione in campo. L'essere equilibrati, l'essere corti ci consente di difendere meglio e soprattutto viste le qualità di questa squadra anche ogni volta che abbiamo la possibilità di ripartire, cosa che abbiamo fatto bene secondo me nella prima ora di gioco. Quindi conseguentemente è importante che anche quando abbiamo meno brillantezza, siamo più stanchi, cerchiamo di mantenere quelle che sono le nostre idee.